Ninfeo A-S-M-R Ciao! Ciao ninfetti miei! Come state? Come? 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 Come state? Oggi sono qui con un video suo dalla spesa molto ricco fatto da Estelunga a eccezione di solo due cosine che ho preso da Iper ho fatto una toccata e fuga non dovevo neanche andarci all'Iper ma ho visto due cosine e le ho prese comunque vi dirò quali sono le due i due articoli che appunto sono stati presi dalla grande I ma partiamo subito perché c'è tanto da vedere alcuni grandi classici ma anche alcune novità quindi vediamo subito dal reparto orto frutta adesso qui ho i sacchettini ma per farvi vedere le cose le tirerò fuori dai sacchetti appunto e ho preso delle susine queste qui nere ne ho prese un bel po' non ve le tiro fuori tutte ma sono queste susine qui che diciamo stanno arrivando un po' agli scoccioli della loro stagione poi poi sempre come frutta ho dei cachi da finire e quindi non li ho ripresi ho preso una retina di arance le arance valencia e sono le prime della stagione le prime che prendo no anzi non è vero forse avevo già preso le arance si forse le avevo già prese una volta ho la memoria a breve termine di un ramarro ah no ragazzi aspettate un attimo rewind io ho qui anche due surgelati passo un secondo ai surgelati e poi torno all'ortofrutta già questo video parte male ma alla fine l'importante è il relax allora nel banco dei surgelati ho preso innanzitutto gli spinaci in foglia surgelati a cubetti quindi questi sono un chilo e sono amarchio e se lunga sono molto buoni non ho mai trovato foglie un po' annerite quindi ve li consiglio e poi mi sono lasciata tentare e non prendo mai cose pronte sughi pronti eccetera ma ho visto questo ragù di polpo della marca Arby quindi era in sconto e anche se sicuramente sarà molto più unto di come l'avrei fatto io non importa in realtà gli ingredienti non mi sembrano affatto male l'ho preso perché a differenza magari di altri sughi come quelli frutti di mare i gamberi eccetera che è molto facile riprodurre a casa il polpo oltre a essere molto costoso non è neanche semplicissimo da pulire e quindi ho detto perché no lo provo gli ingredienti sono polpo 41% acqua olio di semi di cerasole passata di pomodoro olio extravergine d'oliva cipolla pomodoro carota doppio concentrato di pomodoro pasta d'acciughe prezzemolo sale scorza di limone pepe bianco e peperoncino quindi nessun additivo nessun ingrediente strano ripeto io non avrei messo l'olio di semi di cerasole perché per fare i sughetti uso solo l'olio extravergine d'oliva ma tant'è voglio provarlo e vi dirò ora metto i sorgelati in freezer e proseguiamo con l'ortofrutta rieccomi allora quindi abbiamo visto arance e susine poi ho preso un capolfiore che erano scontati e questo lo vendevano già porzionato in questo modo sempre ricercavo il fiore poi ho preso i mirtilli anche questi scontati e li mangerò all'interno dello yogurt poi vi faccio vedere gli yogurt che ho preso perché anche lì ci sono delle novità poi ho preso i pomodorini ho preso questi i pomodori di panchino i cippi i classici i ciliegini lo so che non è più stagione ma sinceramente io i pomodori li prendo tutto l'anno perché per fare i sughetti della pasta soprattutto li consumo cotti durante l'autunno e l'inverno però mi piace sempre tenerli in casa altro urtaggio ho preso una melanzana no ragazzi il topic sulla melanzana poi due patate due patate due patate poi anche questo togliamolo dalla busta un avvocato as 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 che potrebbe anche essere già pronto è abbastanza morbidino gli diamo un altro paio di giorni e infine l'ultima cosina dal reparto ortofrutta ah no altre due cose ho preso le cimette di raba eccole eccole qui io le adoro le adoro qui c'è anche la ricetta delle orecchiette alle cime di raba ve la mostro così potete fare lo stamp screen si chiama così lo screenshot e io ci farò appunto le orecchiette con le cime di raba non le mangio da un sacco di tempo e ultima cosina ho preso le zucchine purtroppo non so se è perché è sabato e quindi c'era praticamente un sacco di gente ma oggi vendevano le zucchine solo nella plastica non so perché di solito io prendo tutto sfuso ma oggi proprio solo le zucchine erano confezionate soltanto in questo modo ipotizzo che magari avessero fatto grazia di quelle già sfuse non lo so erano in sconto anche perché il prezzo delle zucchine ultimamente è veramente alto e non è solo perché sono fuori stagione credo che sia proprio alto in senso assoluto ma vabbè purtroppo l'inflazione sta galoppando ma ora passiamo al resto dei freschi ho qui una gran confusione ma proviamo a fare ordine allora ho voluto provare una roba mai provata prima nel reparto vegano ho voluto provare il mopur con lupino ricco di proteine il mopur è un alimento con fermentazione naturale da lievito madre biologico eccolo qua si tratta praticamente di un simile affettato che contiene farina di lupini glutine di frumento amido di frumento eccetera c'è anche farina di ceci insomma voglio provarlo magari in una piadina con dello stracchino o un po' di stracchino da finire penso possa essere sfizioso magari con la rucola vediamo anche se mi sento stupida perchè la rucola non l'ho comprata vabbè mi è venuto in mente adesso poi ho preso la piadina fresca di grano gamut della marca S lunga equilibrio a dire il vero io a rotazione compro o integrale o farro o gamut a seconda di quale è scontata oggi era scontata questa qui il tris di piadine al gamut quindi ho preso queste qui sono tutte molto buone e anche se spesso la piadina la faccio io averle già in casa è una comodità per quanto magari devo mangiare di corsa non ho tempo e voglio una cosa un press un press un press poi ho preso della marca Maffei i troccoli i troccoli numero 25 sono questi spaghettoni a sezione quadrata e pasta fresca quindi va ovviamente conservata in frigorifero e io ragazzi adoro la pasta fresca secondo me ha proprio tutto una lettera consistenza la trovo più stagna sotto i denti mi piace proprio tanto e infatti proprio da fare con le cime di rapa ho preso le orecchiette le orecchiette fresche della marca Martinucci Molino e pastificio di Altamura solo dal cuore del grano tra l'altro mi è scappato l'occhio su questa scritta qui il pastificio Martinucci ah no Martinucci Martinucci scusate quella M il pastificio Martinucci usa energia pulita sosteniamo le energie rinnovabili volevo vedere ecco loro sono proprio di Altamura c'è scritto qua dietro quindi orecchiette farò sicuramente le orecchiette le cime di rapa poi adesso vi mostro le due cose visto che stiamo parlando di pasta che ho comprato da Iper allora questa marca c'era anche essa è lunga ma non ha questi due gusti adesso ve li mostro motivo per cui li ho visti da Iper scontati li ho presi al volo si tratta allora di queste caramelline con scamorza e radicchio fatte a mano dell'amarca pastai da esse lunga li hanno simili ma con anche dentro lo speck ma appunto vi ho già parlato della mia scelta di evitare il più possibile la carne mi posso definire come ho scoperto recentemente flex italiana e poi l'altro gusto diciamo così è questo raviolini al grano saraceno con formaggio pitto top e questi mi piacerebbe farli proprio come cosa innovativa con una crema di patate e magari poca poca terza o capoloverza stufato sopra magari crisp perché l'appinamento mi ricorda molto i pizzoccheri e quindi voglio provare a unire gli ingredienti dei pizzoccheri come condimento di questi raviolini vedremo potrebbe essere un'idea carina ovviamente anche con un pochino di burro salvia e aglio poi torniamo da essere lunga però con la pasta fresca abbiamo terminato ho preso sempre nel reparto vegetariano parla vegano questi mini burger agli spinaci che avevo provato due settimane fa quando erano scontati adesso non lo sono più ma mi sono piaciuti veramente tanto sia questa versione che la versione alla zucca però vabbè li ho ricomprati gli spinaci perché forse tra i due ho preferito questi è la marca Chio Ene e allora in realtà contengono spinaci 25% carote 24% farina di soia olio di semi girasole glutine di grano pangrattato fiocchi di patate eccetera eccetera insomma non hanno pochissimi ingredienti però guardando i valori nutrizionali non sono affatto male ovviamente sono sempre un po' untini questi prodotti sarebbe meglio farseli da soli ma tant'è poi ho preso il salmone affumicato era scontato purtroppo non è quello selvaggio ma costava un occhio della testa e purtroppo bisogna guardare anche al portafoglio io ogni tanto me lo mangio una volta ogni due settimane indicativamente ma nello stesso reparto era scontato anche questo salmone qui che non ho mai preso che è salmone al naturale non affumicato per carpacci pregiato fettieri salmone norvegese ideale per piatti leggeri e sfiziosi e in effetti gli ingredienti sono unicamente salmone e sale stop tartine pasta panna salmone panini tos piattine insalate pizza al salmone pizza al salmone cioè per carità però non sprecherei un bel carpaccio da mettere sulla pizza per poi farlo cuocere comunque poi ho preso questo yogurt greco io greco 100% di capra a me il latte di capra piace tantissimo con questo suo gusto un pochino più serpatico un pochino più salatino è proprio anche proprio il latte di capra è da bere così posto che adesso non bebo latte da molto tempo perché uso il latte di soia di avena scusate che prendo al conal però il latte di capra mi è sempre piaciuto e voglio provare questo yogurt semplicemente con miele e noci easy peasy Zorbas è una marca che mi piace tanto quindi ho grandi aspettative e tra l'altro solo latte fresco 100% greco perché è appunto un marchio greco e poi mi sono preso un altro yogurtino anzi uno yogurtone della Mila City Roll yogurt latte fieno quindi è prodotto con il latte di montagna da mucche che appunto si nutrono con fieno in teoria dovrebbero avere un maggior benessere dell'alto adice l'ho preso intero perché sinceramente lo yogurt intero mi dà più soddisfazione rispetto allo yogurt magro e secondo me dà parecchia soddisfazione poi ho preso queste fettine di scamorza bianca che io tengo in casa e utilizzo in vari modi se voglio farmi un hamburger vegetale mi metto sopra una fettina di formaggio se voglio fare non lo so una pietina col bolle e peperoni tipo facitas e anche cipolle metto dentro anche un paio di fettine per fare effetto appunto facitas con formaggio fuso insomma molto uso e tengo quasi sempre in casa una busta di formaggio e prendo sempre quello che è scontato ad essere lunga questa marca le sottili bontà hanno una varietà di formaggi che è sempre quella però mi sembra che ci sia cheddar, scamorza bianca, scamorza fumicata, fior di monte, fontal, cheddar insomma ci saranno tipo 6 o 7 varietà e a rotazione mettono sempre una in sconto ecco io prendo sempre quella in sconto poi 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 abbiamo le uova vediamo le uova vediamo le uova le mie solite uova le mie solite uova biologiche che prendo marchio S lunga sempre rigorosamente marchio S lunga e poi ultime cosine dei freschi qui ho preso una busta di parmigiano reggiano per le ricette le immancabili confezioni di petto di burlo di affettato di petto di burlo che mangia il mio compagno e mi viene da sorridere perché quando è venuto qui Alessandro del canale Alessandro SMR si ricordava perfettamente delle fettine di burlo e l'ha detto anche ad Angela il mio compagno e tu sei sempre delle fettine di burlo? mi sono presa anche un primo salino della marca Osella era scontato al 40 perché è in scadenza scade il 4 novembre oggi è tipo il 30 ottobre quindi ho 4 giorni circa no 5 giorni per consumarlo ma non avrò problemi a farlo e l'ultima cosina fresca è il burlo semplice filetto di burlo a fette che appunto faremo con i peperoni che ho in frigo li ho presi a Lidl e le cipolle con le spezie messicane e ora passiamo agli altri articoli quindi non sto a mettere prima via la roba perché tanto non mi è rimasto moltissimo diciamo che ho preso molte più cosine da frigo piuttosto che da dispensa allora visto che ero a corto di pasta bianca ce l'avevo tutta integrale ho preso questo gran fusillo tipo ierlo che ragazzi mi ispirava un sacco perché non avevo mai visto dei fusilli fatti così ve li avvicino in modo da poterli ammirare guardate che fusilli strani sembrano proprio grandi con questa bella elica sono molto curiosa non so se fare questi con il sughetto e l'acqua di polpo oppure se fare una pasta lunga vedremo poi della pompatura rooibos infuso rosso è una sorta di tè rosso ma senza teina che però appunto non sa proprio di tè ha un sapore particolare aromatico e distensivo poi ho preso giusto due cioccolati per la lenda erano scontati e visto che questi al 90% non sono mai 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 scontati ho detto devo fare scorta avrò cioccolato per almeno un paio di mesi ad occhio e croce proseguiamo con un nostro grande classico le fette biscottate brioche basquie integrali al farro biologiche sono le mie preferite da sempre lo sapete poi ho preso e purtroppo mi sono resa conto che o ho sbagliato o la confezione è cambiata questo il mio brado di verdure di star dico che che o ho sbagliato o è cambiata perché io ricordavo che era biologico ora gli ingredienti sono sempre pochi e tutti molto semplici perché c'è acqua carota sedano aromi naturali sale cipolla piante aromatiche posto che aromi naturali può voler dire tutto ma vabbè però senza conservanti senza glutammato insomma questo brado non è male a patto che sia il brado che che purevo io di sicuro la confezione è diversa ma è possibile che abbiano semplicemente cambiato la grafica lo so lo scoprirò prima o poi poi ho preso i cegri questi di S lunga semplici nel loro brick questo è proprio un brick che si può poi riciclare nella carta dello stesso materiale dei cartoni del latte poi mandorle semplici mandorle pelate del cile del cile che in realtà erano quelle che costavano di meno da mettere nello yogurt da sgranocchiare come piccolo spuntino vanno sempre benissimo poi passata passata De Cecco è la primissima volta nella mia vita che la provo anche qui era scontata e quindi mi son detta De Cecco è una marca che solitamente non mi dispiace non potrà essere male quindi la proverò e vedremo e infine le ultime tre cosine ho preso due marmellate della stessa marca Mielizia sono marmellate biologiche una di albicocche della Basilicata e gli ingredienti non sono affatto male anche perché contiene l'ottantadue per cento di albicocche zucchero d'uva purea di mele miele succo di limone se non ricordo male queste sono abbastanza liquidine è una sorta di composta più che marmellata e infatti è senza aggiunta di pectina e ho preso anche quella alle pesche dell'Emilia Romagna questa è un pochino più solida ma comunque ah ma si ma c'è anche scritto dietro composta di pesche che io ricordi le avevo già acquistate non sono esageratamente dolci cosa che non mi dispiace sapete che il gusto eccessivamente dolce non mi fa impazzire e e visto che è da un po' che non ho ordino da pulbrossa mi era finita la crema di nocciole e sono tornata per questa volta poi ordinerò da pulbrossa a Damiano e ho preso la crema di nocciola 100% è rascondata oh che carino questo suono lo allontano un po' dal microfono perchè è molto intenso però bene anche qui è proprio 100x100 nocciole quindi come se voi tritaste le nocciole ma fatto più vellutato ovviamente e niente carini infatti questa è era la mia spesa diciamo da esse lunga con queste due piccole questi due piccoli intrusi che arrivano da iper spero che vi sia piaciuta di avervi dato come sempre qualche piccolo spunto ma soprattutto di avervi rilassati 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 io vi chiedo per favore se il video vi è piaciuto di lasciare un commento un like e magari di iscrivervi perchè sono onesta il canale non sta andando molto bene se vedete tutti gli ultimi video stanno avendo un drastico calo di visualizzazioni e magari se grazie al vostro aiuto riusciamo a movimentare un po' l'algoritmo chi lo sa magari c'è possibilità di tornare alle visualizzazioni di qualche mese fa ve lo ve lo chiedo insomma anche come favore se vi piace la qualità che porto su questo canale io vi mando tanti 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 baci e noi ci vediamo al prossimo video rilassante buonanotte 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 buonanotte